Era la notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi quando un rogo divorò un'auto di servizio dell'arma e danneggiò gravemente la facciata della caserma di Pergine Valdarno. Solamente il pronto e tempestivo intervento dei vigili del fuoco evitò danni ben più gravi. Per il folle gesto era finito in manette un 18enne accusato di aver confezionato e lanciato una Molotov contro la sede ed adesso comparirà il prossimo 11 ottobre di fronte al giudice Fabio Lombardo, che per lui ha disposto il giudizio immediato. Il giovane attualmente si trova agli arresti domiciliari, per il lancio della Molotov dovrà rispondere di 5 imputazioni, si va dall'incendio alla fabbricazione, detenzione, porto in luogo pubblico di armi da guerra, nonché di scoppio di ordigno al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica. Il ragazzo, secondo gli inquirenti, avrebbe attuato una sorta di vendetta nei confronti dei militari che si erano già occupati di lui per vicende precedenti, a difendere il 18enne, che si dichiara innocente l'avvocato Alessandro Calussi, che potrebbe chiedere un rito alternativo. I guai per il ragazzo però non finiscono qui, a pesare sulla sua posizione giudiziaria, c'è anche un altro episodio che risale al Capodanno 2018, quando assieme ad altri ragazzi avrebbe fatto esplodere dei petardi in un cassonetto provocandone l'incendio. Era ancora minorenne e il tribunale competente di Firenze stabilì per lui e gli altri la messa alla prova. Il 18enne aveva così svolto quanto gli era stato prescritto, ma adesso il giudice fiorentino ha cancellato tutto, perché appunto nel periodo di messa alla prova è stato accusato per il lancio della Molotov. A gennaio 2021 dovrà dunque sostenere un altro processo.